Siamo in compagnia della brava attrice turca Serra Ilmaz. Lei è stata definita l'attrice icona del regista Ozzbetek. Com'è nata questa collaborazione con lui? È nata di un incontro a Strasburgo in Francia durante una rassegna di cinema turco. Ci siamo incontrati ed abbiamo cominciato a lavorare insieme. E' così che è nata. Lei nei film è sempre la donna forte, la donna roccia che dà consigli agli altri. Lei è così nella vita? Non credo perché non penso di avere tanti consigli di dare agli altri. Però è anche un'immagine che è cresciuta tramite il cinema di Fersan perché è un film che è stato proiettato ieri qui che si chiama Nove in cui faccio la protagonista e faccio una parte molto molto diversa. Quindi dipende un po' dai registi. Secondo lei in cosa sono vicini e in cosa sono lontani Catania, Istanbul, la Sicilia e la Turchia? Penso che siano molto molto vicini. Io non li trovo affatto lontani veramente perché io ho passato un po' di tempo a Catania. Tre anni fa ero qui nell'anno che c'era stato quell'AFA e recitavo qui al teatro e quindi mi sono fermata per più di un mese. Sono stata molto bene e devo dire che trovo più similitudine che differenze. Come è cambiata la Turchia di oggi? La Turchia di oggi è molto cambiata a livello della crescita economica e avrebbe bisogno di cambiare ancora molto a livello di una certa democratizzazione politica e progresso politico. E la gioventù turca com'è cambiata? La gioventù turca non so se è molto cambiata, forse sì. Ci sono dei cambiamenti non molto positivi in un certo senso perché c'è una specie di dominio della cultura americana che prende un po' ovunque, che non è per me molto piacevole, a dire la verità. Però forse c'è anche più accesso all'informazione e all'internet è arrivata un po' ovunque, anche nei paesi più piccoli ci sono tutti i caffè internet, anche se dobbiamo ponere anche il problema di sapere che informazioni ci dà internet perché anche lì trovo che ci sia una specie di dominio dell'informazione che viene fatto tramite Google o tramite... che non sono innocenti e Wikipedia, ad esempio, è qualcosa molto discutibile. Tornando al suo lavoro, il suo prossimo ruolo quale sarà? Il mio prossimo ruolo, posso dire quale sarà al teatro? Al teatro sarà la parte di un angelo che viene dal cielo sulla terra per fare porno star e al cinema mi auguro che sarà il ruolo del regista Yumi Tünar, che faceva parte del festival che si trovava qui ieri e che ha un progetto di film che si chiama Sultan in Cucina che Sultan è quella donna, perché è anche un nome in turco, Sultan questa donna che cucina e uccide. Grazie e grandi successi! Grazie! 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 Grazie!